Ma se rinunciamo alla nostra individualità e diventiamo un branco senza una fisionomia, non saremo mai meglio di loro. Sei tu che sei la peggiore. Art, lei dice così solo perché vuole integrarsi. La parola passa a magnitude. Anzitutto, pop up! È forte! Vero, Jenny? E secondo, magnitude è un one-man party. È un one-man party, non fa alleanze, se no è un paradosso. Concordo nel non essere d'accordo. Tranquillo, paradoxo. Andrea è a casa solo col bambino. Caspita, Shirley, dimentica il figlio che hai partorito. Ci sono persone che hanno bisogno di te. Io non posso rinunciare a nessun soldato. Cosa? Ah, ora sei tu il leader. Tu non ti sei fatto avanti. Un leader non ne ha mica bisogno, Troy. Sono rilutante a farlo, ma lo accetto, me lo impongono sempre. No! Cavoli, gente, che cos'è quello? Malvito! Pop! Pop cosa? Pop cosa? Cosa sta cercando di dire? Pop cosa, magnitude? Esseri umani di Greendale. È ormai evidente che l'unica via d'uscita che abbiamo è unirci e sconfiggere il City College. E anch'io sono obbligato a farmi carico del ruolo che mi avete dato. E questo ruolo quale sarebbe? Non è il momento di litigare, Troy. Al mio tre, forza Greendale! Uno! Due! Jeff, ogni secondo conta. Al mio due, forza Greendale! Uno! Ragazzi! Forza Greendale! Forza Greendale! Forza Greendale!